Dalla seconda metà di aprile, laddove la situazione sia sotto controllo, tornare alla vita e al lavoro è un dovere. Devo dire, finalmente, mi sembra che alla riunione di oggi abbia prevalso il diffuso buonsenso, penso che sia il giusto riconoscimento alla pazienza, al sacrificio, alla dignità, alla generosità, al rispetto e all'educazione del popolo italiano, con i responsabili della comunità scientifica al tavolo a certificare che all'aperto il ritorno alla vita è assolutamente sano e doveroso, è una bella giornata.